Benvenuti nel canale Fabio Pecce se il video ti piace puoi farcelo sapere con un like. Da quando abbiamo visto l'introduzione dei rimedi contro le rughe tramite piccoli interventi, sia chirurgici definitivi, sia con piccole iniezioni di botulino, sono sempre di più le persone che ne fanno richiesta a centri specializzati. Tralasciamo gli effetti indesiderati per capire come apparirebbero veramente oggi i volti noti della tv che hanno avuto un beneficio da questi interventi. Abbiamo utilizzato l'intelligenza artificiale partendo da una semplice foto e inserendo gli anni anagrafici nel sistema per far apparire la riproduzione di come dovrebbero essere oggi senza interventi e senza trucco e parrucco buona visione. Grazie a tutti! Grazie a tutti!